Bella gente, come diceva il Gabibbo, forse dice ancora, non so se esiste ancora il Gabibbo in televisione o sono soltanto un boomer. Oggi voglio parlare insieme a voi, fare un bel discorsino di quelli proprio da amici, no? Da chiacchierata al bar, perché ci avviciniamo ovviamente a sabato a questa sfida all'Empoli che andrà a riprendere un percorso della Juventus che si era interrotto un po' troppo presto e che ci stava anche un pochettino gasando, diciamoci la verità, non nel senso assoluto del termine quanto più nel senso ricreativo, nel senso divertente, era appena iniziata la stagione, quindi eravamo completamente immersi vogliamo ritornare a vedere la Juve, vogliamo ritornare a sperare di poter fare delle cose buone. Ci sarà anche la Champions, quindi Tiago Motta dovrà anche un pochettino, secondo me, iniziare a calcolare, a fare due conti per i giocatori che preferisce risparmiare, preferisce valorizzare, eccetera, eccetera. Non dimentichiamoci però che la Juventus in questo momento non si sta allenando con tutti gli effettivi. Ieri ero al bianco-nero con Colpo Gobbo e Romeo, vi invito ad andare a vedere magari anche la chiacchierata che abbiamo fatto nella loro raiva, hanno poi preso dei pezzettini e li hanno creati sotto forma di video, quindi trovate tutti i contenuti sul loro canale e a un certo punto abbiamo parlato di Aztic, perché è un giocatore, un nome che era circolato nelle ultime ore e tanti pensavano che Aztic potesse giocare titolare in questa partita con l'Empoli proprio per via delle assenze di alcuni giocatori che sono andati a giocare in nazionale. Vi faccio un esempio, abbiamo avuto anche un po' di paura per Nico Gonzalez, no? Beh, ieri sera ha giocato con l'Argentina, ha pure fatto gol nella sconfitta dell'Albin Celeste contro la Columbia di Cabal, quindi in teoria sta bene, se non benissimo bisognerà vedere se verrà rischiato da Tiago Motta oppure no, perché c'è anche caso che Tiago Motta dica senti, hai fatto il giro del mondo, sei stato anche in dubbio, hai avuto questo problemino, ci hai giocato sopra magari ti tengo fuori. Io credo che sia abbastanza presto perché siamo a mercoledì e quindi difficilmente Tiago Motta avrà ancora in testa, avrà già in testa la formazione titolare, dovrà vedere quando rientrano i giocatori, dovrà valutare le condizioni fisiche, però una cosa abbiamo imparato di Tiago Motta e cioè che dà molta, molto, molto peso a quello che vede in allenamento e quindi l'allenamento lo vede con i giocatori che sono rimasti a Torino. Impegnati con le nazionali ci sono Cambiaso, Gatti, Fagioli, Hildiz, Nico Gonzalez, Cabal, Danilo, Savona, Rui e Bangulà, questi ultimi tre con ovviamente le nazionali under, stanno facendo dei buoni percorsi anche loro, sono dei giocatori che stanno iniziando a trovare spazio anche a livello internazionale, ovviamente. A Torino sono rimasti di Gregorio, Perimpi, Insoglio, Bremer, Locatelli, Cobmeiners, Blaovic, Calulu, McKennie, Astic e Douglas Lewis, oltre agli infortunati con Seisao, UEA, Turam e Milik. Quindi noi, tra quelli che torneranno prima, perché alcuni torneranno in extremis, tra quelli che sono rimasti, tra quelli che si sono allenati, tra quelli che sono disponibili perché non sono infortunati, iniziamo ad avere un po' chiara la situazione. I tre portieri ce li abbiamo o dobbiamo ragionare sugli uomini di movimento? Allora giochiamo insieme, cerchiamo di iniziare già a fare quella che potrebbe essere la probabile formazione in prospettiva per affrontare l'Empoli e allo stesso tempo cercare anche di avere un occhio di riguardo per la Champions, perché poi inizia questo momento in cui giochi in campionato, giochi in Champions, giochi in campionato, al quale noi non eravamo più abituati, lo sapete, l'anno scorso noi non abbiamo giocato la Champions. Apro e chiudo a parentesi, vi condivido un piccolo sogno che ho fatto stanotte, prendevo il treno, andavo a Torino per vedere la Champions, andavo in hotel, mi addormentavo, mi svegliavo che la partita era già iniziata, correvo in un bar piuttosto che andare allo stadio e quando entravo in questo bar la partita, che io avevo visto sul telefono essere 1-0 per il PSV, era l'ultimo minuto in assoluto e la Juventus stava vincendo 5-4. Ora è un sogno, indubbiamente, però il mio cervello ha processato sta roba, se avete voglia di buttare via dei soldi io vi ho dato la scommessa da fare, una scommessa folle, al massimo poi andiamo a sbezzare. Ragazzi questi, a parte gli scherzi, però volevo condividerli insieme a voi, sono i giocatori che sono rimasti a Torino a lavorare e che mi immagino quindi di vedere i titolari al limite, ovviamente c'era valuta la condizione fisica, perché dico questo? Perché di Gregorio ce l'aspettiamo ma Perini e Pinsoglie era lì quindi ha lavorato, Vlaovic è rimasto quindi sarà titolare. Locatelli, mi immagino di vedere la prima minuto così come Bremer, ci sono da valutare Kalulu, Douglas Lewis e Koppmeiners, perché questi tre giocatori? Kalulu perché non sappiamo effettivamente a che punto sia dal punto di vista fisico, scusate la ripetizione. Douglas Lewis perché ha saltato le prime tre da titolare e bisogna capire se è un discorso legato alla preparazione o soltanto un discorso legato alla qualità degli allenamenti e Koppmeiners, ieri ha detto di essere pronto a giocare al primo minuto, però sappiamo anche che ha avuto una situazione un po' così in allenamento durante queste settimane in cui a Bergamo era comunque staccato dal gruppo. Tra quelli che sono rimasti a Torino rimangono appunto McKennie e Aztic come giocatori collocabili. Io credo che questa potrà essere una sorta di spina dorsale della squadra per Tiago Motta e poi andrà ad aggiungere a seconda di quelli che saranno i ruoli utilizzati. Tradotto, non è che se McKennie e Aztic si sono allenati allora li fa giocare per forza perché sono stati bravi in allenamento. Ci saranno ovviamente dei giocatori che giocheranno per valorezzare quello che è stato il lavoro di queste settimane e altri che anche se entreranno, non ritorneranno magari con meno allenamenti nelle gambe rispetto a questi, si andranno a prendere la maglia da titolare a discapito di altri che potrebbero finire in panchina. Quindi io McKennie e Aztic me li aspetto in panchina a meno che non si dica McKennie gioca al posto di Locatelli o Douglas Lewis e Aztic gioca al posto di Cobbeners. Quindi andranno a prendere proprio in maniera coerente quella posizione. Se Caludo non sta bene, sono sempre cambiasi o cabal. Allora, cerchiamo di iniziare un pochettino a completarla questa formazione perché io mi aspetto assolutamente di vedere Gatti titolare ancora una volta. È un giocatore che ormai Tiago Motta ha messo veramente al centro il suo progetto con tanto di fascia di capitano, quindi sarei sorpreso di vedere Gatti fuori dalla formazione titolare. Io credo che qui giocherà comunque uno tra Ildis e Bangula. Adesso metto Ildis, poi c'è sempre Bangula che potrebbe giocare. Mettiamo il beneficio del dubbio, teniamolo lì. Qui. Qui è un problema, perché qui non ho idea di chi potrebbe giocarci. Allora, facciamo un po' di opzioni, cerchiamo di tirar fuori un po' di opzioni. O ci gioca Nico che è pienamente recuperato e che sta bene, dato che Wacom e Sao comunque sono fuori e quindi lì ci va il titolare della fascia destra, nonostante tutti questi problemi di queste settimane, oppure ci va andare Cambiaso. Se ci va Nico, penso che Calulu possa giocare in questa posizione qui. Se qua ci va Cambiaso, che è un giocatore che va dentro il campo, io non credo che ci potrà andare Calulu in questa fascia, perché sennò Calulu dovrebbe spingere, e anche tanto. E delle due, se qui gioca Cambiaso, vedo Savona. Quindi io, dato che immagino che giocherà Calulu, provo comunque a mettere Nico, ok? Viene da sé che l'ultima posizione diventa una sorta di ballottaggio tra Cambiaso e Cabal. Chi gioca dei due? Beh, uno dei due. Tanto poi ci sono tante altre partite, quindi immagino che andrà a inserire un giocatore anche in valore rispetto a quello che sarà il turnover che vorrà andare a fare, no? Non lo so, perché probabilmente con Bremere Gatti così io qua vedo molto più Cabal rispetto a Cambiaso. E quindi l'idea è che se questa sarà la configurazione della Juventus, alla fine magari Calulu non partirà a titolare. E davvero qua ci andrà Savona e qui andrebbe Cambiaso. Quindi secondo me sono queste due le opzioni. Bisogna cercare di capire che tipo di giochino vuol fare su questa fascia, però io la vedo molto molto più logica così per un motivo. In questo modo la Juventus andrebbe a impostare con i suoi tre soliti, con Cabal che fa il mezzo, ok? E andrebbe ad attaccare in questo modo qui. Questa è un po' l'idea che secondo me ha in testa Tiago Motta per questa partita. Poi bisogna capire se qua ci va Ildis o Bangula. È anche qui un ballottaggio di quello che vi dicevo prima, però dato che ormai Cobbeners abbiamo capito che giocherà in via più centrale del campo, Ildis dobbiamo iniziare a immaginarcelo davvero come esterno anche in questa posizione. Quindi secondo me questa o quell'altra sono le due un po' più probabili. Il problema è che se qua poi ci metti Nico, mi dicevo prima, qua ci devi mettere Calulu e Calulu non può andare a fare questo tipo di lavoro, quindi non lo so, non mi torna il giochino. Quindi forse è più probabile che in quella posizione giochi Sabona insieme a Cambiaso per riuscire a fare il giochino sulla fascia di destra. Però capite bene che uno è ancora troppo presto, due neanche Tiago Motta ci avrà ancora ragionato, tre bisogna capire anche le condizioni fisiche dei giocatori e non solo quelle tattiche. Però era un video che volevo provare a portarvi in questa giornata, priva ovviamente di contenuti interessanti perché stiamo parlando di una pausa nazionale che per fortuna sta terminando e poi ricominceremo con tutti i nostri discorsi, tutte le nostre chiacchierate fatte bene sulle partite perché finalmente poi si torna a far rotolare il parlone. Fatemi sapere un po' le vostre considerazioni qui sotto nei commenti, era un po' un giochino che volevo fare insieme a voi, ma come vedete anche se i giocatori sono pochi, quegli incastri dal punto di vista tattico possono diventare diversi. Ciao!